Quindi scende anche subito Frettacche, ma penso ormai che arriverà la fine, che ora mancherà ancora 10 minuti in quanto, no, io la penso Ma porco di... E' arrivato proprio in fondo alla mezza E' arrivato proprio in fondo E' arrivato proprio in fondo Loro, io l'ho danno... E' arrivato proprio in fondo Non, non altro Tu non mi piace Sì, è vero, è vero. Ora vediamo se vi stiamo passando il 5.6 E io credo che stiamo passando E io credo che stiamo passando Il numero 77, 17 E io credo che stiamo passando 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 Quattro Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti.